salve in questo video prendiamo in considerazione alcuni concetti non proprio semplici con cui ci può capitare di avere a che fare nel mondo dell'editing compositing video sto parlando della correzione gamma delle codifiche colori lineari non lineari e infine del bitrate del resampling nel prossimo video la correzione gamma è matematicamente parlando una funzione esponenziale e quindi la funzione inversa di quella logaritmica la cui formula è output uguale input alla 1 su gamma in realtà la vera formula della funzione gamma è output uguale input alla gamma che è usata per correggere i file log lo vedremo a breve ma adesso ritorniamo alla formula output uguale input elevato alla 1 su gamma prendiamo il graffio della curva colore o LUT la linea grigia rappresenta la linearità ad ogni valore dell'input corrisponde lo stesso valore dell'output la linea tratteggiata rappresenta l'operatore gamma si vede che nel nero puro uguale a 0 non c'è effetto così come nel bianco puro uguale a 1 per valori intermedi invece si ha un incremento dell'output che tocca al massimo quando l'input è 0 5 questa curva non è unica ne esistono per ogni valore di gamma il risultato della correzione gamma è quindi quello di aumentare la luminosità dell'immagine senza però schiarire i neri puri o bruciare le alte luci lavorando all'interno del range 0 1 inoltre non ci sono problemi di clipping o di risultati indesiderati come può succedere usando ed esagerando con il tool luminosità contrasto per esempio ma attenzione al di fuori dell'intervallo 0 1 possiamo invece ottenere risultati inaspettati basta inserire valori dell'input sopra 1,0 nella formula che si è visto prima per rendersene conto ma queste prove fatele da voi questo è l'uso dell'operatore gamma così come si trova insieme l'erra e nei programmi simili cioè come strumento per la color correction ma il fatto di essere l'inverso della funzione logaritmica lo rende utile anche per linearizzare i file log detti anche flat in effetti lo spazio colore srgb sarebbe logaritmico ma in realtà viene sempre linearizzato sul dispositivo di visualizzazione dall'applicazione della correzione gamma con valore standard di 2.2 lo stesso vale per rec 709 solo che il valore gamma è questa volta di 2.4 si parla in questi casi di file gamma corretti si può dire che il mondo reale è lineare mentre l'occhio umano non lo è quindi anche c e x y z non è lineare perché cerca di essere aderente alla visione umana invece per esempio il nuovo spazio colore aces è lineare ormai che ci siamo parliamo quindi di cosa significa lavorare in lineare logaritmico come detto la visione umana si può approssimare a una visione logaritmica si riescono a vedere diversi dettagli nelle ombre anche in presenza di piccoli incrementi di luminosità in pratica con pochissima luce all'opposto non riusciamo a vedere i dettagli nelle altre luci pur con grandi variazioni di luminosità e meno male direi altrimenti a guardare troppo il sole si dannergerebbero gli occhi si vede bene e vicino allo zero cioè nelle ombre un piccolo incremento di luminosità lungo l'asse x corrisponde un grosso aumento dell'output cioè l'asse y invece nella parte delle alte luci anche con grossi aumenti di luminosità si ha solo una minima variazione dell'output la conclusione è che salvare un video codificato in modo logaritmico imita la visione umana offrendo un risultato più naturale ma ancora più importante è che ci permette di risparmiare spazio cioè usare una minore profondità di colore tralasciando gli inavvertibili dettagli nelle alte luci e concentrandoci solo sui dettagli delle ombre e nei medi ulteriore aspetto importante è il contenimento del rumore nelle ombre l'immagine salvata in log possiamo facilmente farla diventare lineare basta applicare una funzione inversa per esempio la gamma correction di cui abbiamo parlato o ancora meglio una specifica l'out un'immagine log visualizzata su schermo senza correzione gamma appare piatta e desaturata come già sappiamo infatti i valori di luminosità dei pixel si abbassano si verifica quindi una diminuzione di contrasto lo stesso succede alle curve dei canali di colore per cui si riscontra anche minor saturazione questa visualizzazione non è buona per poterci lavorare a schermo quindi si presenta la necessità di linearizzare l'immagine che come abbiamo già detto si può fare istantaneamente con specifiche lutte o con la correzione gamma meglio non fare tutte e due le cose assieme altrimenti otteniamo un risultato eccessivo la pipeline in un programma di editing compositing può essere riassunta in modo che a prima vista può sembrare assurda ma in realtà è efficiente e comoda da usare uno si importa il file log nel pc due si apre alla lutte di linearizzazione altrimenti a monitor la vediamo troppo slavata tre si lavora di editing compositing impostando però il programma a visualizzare l'immagine con un altro tipo di lutte infatti un'immagine lineare appare troppo scura per lavorarci agevolmente per esempio se il monitor è di tipo srgb si applica una lutte che adatta l'immagine a questo spazio colore netron ci permette di scegliere come visualizzare l'immagine a monitor anche se internamente lavora sempre in lineare 4 finito l'editing si riporta al log per salvare steve wright nel suo bel libro riassume tutto nella frase si salva in log e si lavora in lineare il vantaggio di salvare in log come si è detto è quello di risparmiare spazio mantenendo la gamma dinamica più estesa possibile e riducendo il rumore nelle ombre infatti un range dinamico a 10 bit in log corrisponde più o meno allo stesso range a 14 16 bit in lineare con un evidente risparmio di spazio e risorse inoltre il fatto n neri sia più precisa la corrispondenza fra f stop e variazioni di illuminazione detto valore luce lungo l'asse y permette di avere meno rumore che sempre otteniamo quando cerchiamo di schiarire le ombre come dice stefano russo un gamma log è una funzione di trasferimento che consente di interpretare in un certo modo i valori di foto trasduzione del sensore in modo che le alte luci possano rappresentarsi con equivalenti valore esposizione e le zone in ombra o comunque quelle più scure col minimo rumore possibile per fare ciò un gamma log spinge verso il basso le zone che rischierebbero di finire oltre il livello di saturazione e teoricamente alza o sovrillumina le zone scure per ridurre al minimo gli effetti di amplificazione del segnale cioè il rumore aggiungo io questa pipeline è per ambiti pro in cui il log ottenuto viene inviato ad altri reparti per varie lavorazioni in ambito consumer probabilmente avremo a che fare con file mp4 o mov con grossa compressione e su questi si può lavorare per andare direttamente nel web o in hd tv o ancora meglio si può salvare un intermedio digitale per conservare il file ad alta qualità per ogni possibile uso futuro il fatto che conviene lavorare in lineare invece è dovuto alla comodità e alla prevedibilità dei risultati durante una color correction partendo da una curva colore lineare è facile prevedere il risultato di un gain per esempio ottenendo il risultato ricercato senza avere effetti imprevisti partendo da una curva colore logaritmica si hanno comportamenti più estremi non lineari infatti che portano facilmente ad artefatti e bruciature altro vantaggio del lineare sia quando componiamo vari shot diversi in un frame singolo se ognuno un log diverso dagli altri l'omogenizzazione sarà complicata dando un risultato non ottimale se invece tutti gli shot sono lineari raggiungere l'uniformità del frame è più facile e comodo finiamo questo breve video e rimandiamo all'ultimo della serie il prossimo